Sicuramente questa è un'eccellenza sul territorio, è un punto ormai conosciuto sicuramente in tutta la provincia ma anche al di fuori della provincia. È molto importante perché ci sono una serie di attività che danno lavoro, richiamano persone su Vado, quindi è sicuramente importante per noi e per il territorio.